Sciopero generale domani del settore dei trasporti, quali sono le motivazioni di questa mobilitazione? Intanto chiediamo a gran voce che il governo ci convochi per una discussione strutturale su tutto il sistema dei trasporti e di superare il modello di discussione col sindacato soltanto episodico legato alle emergenze. Il settore del trasporto ha bisogno di un'interlocuzione continua e di risolvere problemi annosi e problemi anche più recenti ma devono essere affrontati con strategie condivise. Abbiamo delle infrastrutture fatiscenti, abbiamo i mezzi che in tutte le città del trasporto pubblico prendono fuoco e abbiamo un quadro di regole da rivedere per evitare il dumping, per evitare le infiltrazioni della malavita che sono problemi che esistono nel trasporto. Abbiamo necessità nuove da affrontare come il tema dell'automazione e l'aggregazione dei grandi gruppi armatoriali e soprattutto dobbiamo mettere al centro della discussione la sicurezza perché il settore dell'autotrasporto è uno dei settori dove si muore di più di lavoro e ci sono più infortuni. Il diritto allo sciopero che è sotto attacco in questo settore e bisogna mettere al centro delle regole sulla rappresentanza. Io prendo ad esempio il caso dei riders che sono stati un oggetto di discussione che in qualche maniera incrocia il tema della rappresentanza perché i riders hanno un contratto nazionale e non hanno bisogno di salari minimi come altri. C'è bisogno però di regole sulla rappresentanza che identificano chi può firmare gli accordi e che questi accordi poi vengano resi esigibili da tutti. Questa iniziativa di domani che si intitola Rimettiamo in movimento il Paese è un'iniziativa che si sussegue a quelle già proclamate da altre categorie a livello confederale quindi parliamo dei pensionati, dei metalmeccanici, del pubblico impiego, degli edili e che è figlia della piattaforma di CGL e Cisle Will sfociata nella grandissima manifestazione del 9 febbraio scorso al quale hanno partecipato alcune centinaia di migliaia di lavoratori. Una piattaforma che tocca i temi del lavoro, dell'occupazione, del fisco, delle pensioni e del rinnovo dei contratti. Quindi si mette al centro dei temi lo sviluppo e l'occupazione. Il settore dei trasporti è un settore strategico per l'intero territorio nazionale e rappresenta un volano di sviluppo per quanto riguarda tutta l'economia del Paese particolarmente sul nostro territorio dove abbiamo uno dei principali porti italiani. Alla Spezia c'è, il blocco della portualità è intera giornata, per gli autotrasporti il trasporto pubblico locale è di 4 ore, dalle 11 alle 15 e per le ferrovie dello Stato è 8 ore. Per l'autotrasporto il contatto logistico e merci è 4 ore a fine ogni turno. Questa è la tipologia di domani, di come si svolgerà lo sciopero. Ecco, e il porto domani sarà bloccato? Il porto domani sarà chiuso, sì, e praticamente si troverà delle difficoltà. Noi rimarchiamo che questo stato di agitazione serve per sbloccare alcuni contratti nazionali fermi da mesi che dobbiamo per forza ripetere, cioè dare un segnale al governo che ci ascolti perché è un settore molto importante per le infrastrutture e per gli investimenti che ci saranno sul porto e sul trasporto pubblico che mancano delle risorse.